Il capitano Holder Il capitano è morto Caduto con la sua nave Il primo ufficiale? Non è più con noi, tenente Tutto durante la collisione? Signor C Allora chi è al comando, Gator? Come ufficiale di grado più alto a bordo, credo proprio lei, signore C'è una navetta dal calciatore Pediniere Tigris Ricevuto Il radar è attivo? Affermativo, signore Destinare i trasporti Raven all'evacuazione e facciamo sbarcare tutte le vittime Addetto al salto, ordinarsi per la partenza Roger, l'ingegnere McCallum è al lavoro Sergente, possiamo contare su di lei? A sua completa disposizione Solder, sei con me? Sempre Gator, mi passi la mirata? Subito, ufficiale mi chiami Stratcom, top catch sovere Roger Capitano della Tigris in plancia Capitano Ferran Tenente, chi è al comando? Tenente Reyes, capo squadre di Ascar Capitano La sua nave? Intatta Signore, ammiraglio Reyes in linea Uno schermo Capitano Ferran, signori, felice di vedervi Signore? Voglio essere assolutamente chiaro con voi Siamo entrati in guerra con il Settlement Defense Front Grazie alla manovra del Capitano Holder, il nemico ha dovuto ritirarsi Al momento Tigris e Retribution sono le uniche navi operative che ci restano Il nostro prossimo compito è guadagnare tempo per la terra mentre ricostruiamo la flotta Benissimo ammiraglio, la Tigris è già pronta Oggi non hanno colpito solo Ginevra Il Sett Def ha sferrato un attacco simultaneo al Gateway Lunare Al Terminal arrivano carichi essenziali per ricostruire la flotta La vostra missione sarà riconquistarlo Tenente Reyes La promuovo al grado di comandante Ora è il Capitano facente funzioni della Retribution Ricevuto, Milena Tenga il nemico lontano Buona fortuna, Capitani Top Gear, chiudo Non abbiamo mezzi aerei? Ne faremo a meno, noi della fanteria combattiamo così Faremo schierare i Marine della Retribution La Tigris resterà in appoggio Mettiamoci al lavoro, Capitano Reyes E attenzione là fuori, tutti quanti Anche lei, Capitano Adesso ha molto da dimostrare, Capitano Lo farò prima di quanto crede Io e il Tenente Solter scenderemo con lei È un assalto di terra Il posto di un Capitano è in plancia Beh, non per me Non oggi I Marine stanno davanti Per lei sarà un bel cambiamento Partiamo tra cinque minuti, sergente Ricevuto Andiamo, Gator Gateway Lunare Subito Traccio una rotta La avvisiamo appena pronti, signore Capitano Reyes L'ufficio operativo del Capitano Holder ora È suo Ma ci sono ancora i suoi effetti personali Grazie, Boots All'indomito Capitano John Holder Il Capitano è morto Lunga vita al Capitano È inica? Sì? Puoi farcela Sei il migliore tra noi Detto da te è un bel complimento, Nora Te lo meriti, Raider Ti lascio tranquilla Prenderemo al suo segnale, signore Pronti Signore, ora è autorizzato ad attivare l'accensione dei motori per il salto Bene Pronti a saltare? Ho il Capitano Ferran della Tigris in linea Passamela La Tigris salterà appena fuori dall'area operativa Al vostro arrivo resteremo in appoggio a Inlet Buon viaggio Chiudono Pronti Capitano Saltare Allarmi collisione Salto in 3, 2, 1 Computer a fuoco, settore 3 Stato Livello di precisione 97% Integrità strutturale critica Ce la facciamo, Gatis Pronti a entrare Avanti tutta Usciamo dal salto Salto in 3, 2, 1 Spegnete l'incendio Subito Sì, Tenente Capitano, Tigris in supporto aeree Mi avvisi quando i marini sono pronti all'inserimento La Tigris è pronta Usciamo A te il comando, Gator Agli ordini Tenente, Capitano Ci vediamo in armeria Capitano Reyes La squadra di Omar è al punto di sbarco Perché questo salto è guidato da Omar? Operazione congiunta, Sold È il marin di grado più alto Ma ti ha mancato di rispetto Abbiamo ben altri problemi Il sotto ufficiale Griff sta aspettando nell'armeria Non è da posto, Bramo 1 dietro a sinistra Settente Ludwig, Soldam, puoi salire 18 signore Più i nostri ufficiali E la lattina I tuoi ordini, drone? Sono assegnato al Capitano E sono un androide, non un drone Ma apprezzo l'umorismo, signore Non chiamarmi signore, lattina Tenga d'occhio il robot O lo butto nello spazio So di cosa sono capaci Non sarà necessario, Sargente Ethan Occhio Agli ordini Veicoli al completo, Capitano Nessun problema Non gli serve un sedile Salta su, Ethan Streggeti forte Sì, tenete Su, andiamo Il gateway lunare è attualmente sotto sedi Per difenderlo la Retribution manderà due squadre Alpha e Bravo Uno e due L'obiettivo primario è riprendere il porto Hurra! Hurra! Maschere! Tigris, vi ricevete? Ci siamo, pronti? Affermativo Fuoco nemico intenso, dobbiamo inserirci subito Aprite il porto di sbarco Pronti, ci siamo Siamo pronti, Gator Rusciamo Rusciamo! Gator, andatevene Retribution è in uscita Il terminal è assurdo, Sergente Non mi servono le tue coordinate Non si chiama, respiratore! Riot, si tiene gola! Riot! stellung di gioco nella collocità Per il cigio Pochiamo la docka Prendi il progetto Prendi il prezzo, dai! Siamo tutti interi? Io sì, Ethan. E tu? Pienamente operativo. Riprendiamoci quel porto per la terra infinita. Basteranno due navi per difendere lo spazio aereo. Negativo. Serve supporto aereo. Una cosa a lavoro. Troviamo un'arma al capitale. Dove tenete la roba buona? Armeria! Poco più avanti, seguitemi! Bravo! Alpha procede sul lato nord del Lager. Situazione! Convergiamo, Alpha. Appuntamento al vostro segnale. Ricevuto, chiudo. Regenco e sono lì per noi. Blocca la porta, soldato. Ricevuto. Sei autorizzato al lancio? Affermativo. Allora facci partire. Cosa avete in mente? Abborderemo una miraglia nemica per abbatterla. La fase terrestre dell'operazione è conclusa. Agli scarco e l'aerea. Sarà il suo battesimo di polo. Ho un bel coraggio, capitano. Uomini, resistente. Manderemo qualcuno. Azioniamo l'ascensore. Bene. Quali sono i miei ordini? Vieni con noi, Ethan. Signor T. Omar consulter. Ethan, tu stai con me. Non è un'esercitazione. Molly è un robot. Freddo Marie. Ho già deciso, soldato. Apprendo la fiducia, capitano. Prendiamo il volo. Ugelli a posto. Motori ok. Guardi a costare il dico testo. La Tigris serve supporto aereo. Una cosa alla volta, ragazzi. Occupiamoci della base e poi aiuteremo la Tigris. Ricevuto. Partiamo. Dobbiamo riprendere il controllo dei cieli per non perdere il gateway. Diamo una bella ripulita e scacciamo il set death dallo spazio aereo. Ottimo lavoro, scarpetto. Ottimo lavoro, Scar. Ottimo lavoro. Porto sotto controllo, capitano. Affermativo. Scar, pronti al lancio orbitale. Ricevuto, saliamo. Reyes, siamo in posizione. Ti aspettiamo. Ottimo lavoro, Marine. Preparate al trasporto. Ci vediamo sull'area soccoscia. Affermativo, sergente. In bocca all'ulto, tenente. Raider in arrivo per abbordare la nave nemica. Attendere. Ma è piano, capitano. Usciremo dalla brua, avabordo. Poi 3D in plancia. Una volta dentro, disattiveremo plancia e armi di poppa. Ok, finito il lavoro, usciremo dalla stiva di carico. Esatto. A quel punto la Tigris aprirà il fuoco. Occhio alla contraerea! Ho visto! C'è un alleato abbattuto. Siamo alla zona di lancio. Lancio in 3. 1. Via, via, via. 1-2 fuori. 1-1 fuori. La plancia è andata avanti. Roger, andiamo. Ecco che arrivano. Lancio è il minore. Le armi sono bloccate. Capitano, ho trovato qualcos'altro. Sembrano posizioni di navi nemiche. Puoi scaricare? Già fatto, capitano. Bene, andiamo. Tigris, armi fuori uso. Ci dirigiamo all'uscita. Sergente, ci porti fuori. Tigris, scar fuori. Ricevuto. Procediamo all'attacco. Lo Stratcom ha riassegnato la Tigris fuori dall'area operativa. Sono sicura che ci rivedremo ancora. Bisogna tenere il nemico lontano da casa. Buon viaggio, capitano Reyes. Grazie, capitano Ferro. Capitano, messaggio prioritario dall'ammiraglio. Roger, passamelo. Subito. Capitano Reyes. Lo Stratcom ha decifrato una trasmissione inviata dall'ammiraglio Koch sei ore prima dell'attacco. Roger, ammiraglio. Proceda. Oggi, il fronte inizia la conquista. Da questo momento noi eradicheremo l'autorità e l'influenza della Terra. Il nostro mondo sta per nascere. Il loro sta morendo. Per noi da libertà non è abbastanza. Noi li distruggeremo. Le loro città avviceranno con le pagine dell'orto. Martete. Capitano, si fermeranno solo dopo aver preso la Terra. Ci stiamo giocando tutto. Ricevuto, signore. Ho aggiornamenti sulle riparazioni. Hangar di nuovo operativo. Molto bene. Stenderò subito un rapporto sull'operazione. Ethan accompagna il sergente. Aiutalo col rapporto. Signor sì. Posso arrangiarti. Questo lo so. Hai i tuoi ordini, Ethan. Confermo, capitano. Sono una bella coppia, eh? Peccato perdersi lo spettacolo. Io scommetto su Omar. Io su Ethan. Ha abordato una nave nemica. Non posso smentire né confermare. Lo prendo come un sì. Un sì bello grosso. Basta questo per entrare nella storia. Saliamo Reyes. Vediamo cosa abbiamo. Può finire solo in due modi. E cioè? Beh, o li rispingiamo con queste squadre d'assalto improvvisabili. O? O il set d'Effere spinge noi con un blocco navale e tanti saluti alla terra. Torneremo a casa, Sult. Lo so. Capitano al comando. Timone a sinistra. Mirare di 2-7-0. Novità su quelle informazioni? Mac, può aiutarci lei? Appena il capitano è pronto. Capitano, i miei uomini e gli ufficiali di plancia hanno analizzato i dati estratti da Ethan. È una miniera d'oro. Può spiegarci meglio? Quelle siamo noi e la Tigris. E altre sono del fronte. Sono navi nemiche. Tutte le navi della flotta SDF si tracciano a vicenda. Ne abbiamo individuate alcune. Può scegliere il bersaglio da attaccare. Il formato di un incontro tra i leader dell'SDF in programma nella fascia di Coiter. Quattro caccia torpediniere scorteranno i bersagli sull'Eicaria. Saliremo a bordo per eliminarli. Faremo tutto noi due, Sult. Massima fortività. Ricevuto. Io sono pronta. Ottimo lavoro, capo. Ogni vantaggio conto. La capisco. Sono stata nella stessa situazione, capitano. Era un capitano, Mecca. Perché ha rinunciato all'incarico? Ho commesso il peccato mortale che rovina un comandante. Ho esitato. Può capitare a tutti, capo. Bisogna essere portati per dare ordini in battaglia. Ora le macchine sono nelle mie mani e Nguin nelle sue, capitano. Perfetto. Andiamo. Scara 1. Suggeriamo di limitare i movimenti per sfuggire al rilevamento radar. Decevuto. Scara, tutto pronto per il braccio. Roger, ci siamo. Ossigeno al 36%. Dovrebbero essere già qui. 30 minuti senza comunicazioni con la Retribution. Nessun supporto vitale per ora. Aspettiamo. Ricevuto. In attesa di attività ne... Pronti a entrare. Ricevuto. Il relè è poco più avanti. Da lì ti posso portare al luogo dell'incontro. Bene. Controlli, gravità e pressione pronta. Ricevuto. Vattene senza farti vedere. A posto. Taglia il supporto vitale. Le compressioni avviate. Ci vediamo all'uscita. Non lo so! Apulite le porte! Ricevuto. Li vedo. Decolmiamo, Ryan. Liberiamo la Retribution da quegli schelte. Gator, pronti al salto. Gli SCAR libereranno l'area. Abbiamo seguito il capitano. In gaccia autorizzato. Troviamo il pericolo. Dobbiamo colpire le risorse nemiche. Il bersaglio? Titano, satellite di Saturno. Il fronte ha una stazione di rifornimento. Scenderà con i marini fuori dal perimetro delle pattuglie nemiche per provare una zona da terrazzo. Appena i rinforzi saranno in superficie, attaccherà la torre di rifornimento principale. Il bersaglio è la torre. Affermativo. Questo assalto terrà il nemico sulla difensiva e lontano dalla terra. Capitano, questa missione mi sta particolarmente a cuore. Scenderei con lei se potessi. Tocca, chiudo. Autorizzato, pronti a saltare. Alarmi collisione. Salto in tre, due, uno. Valutazione? Non buona. Precisione 86%. Ne usciremo interi, Gator? Ci sto lavorando. Scappo in tensione. Salteremo in aria? Beh, forse no. Ma forse sì. Assetto di sorvolo. Tre, due, uno. Rapporto. Margine d'errore 0,05. Buon salto, capitano. Complimenti, Gator. Boots. Porta il capitano in armeria. Agli orti. L'istruzione di quella torre farebbe un gran bene al morale. Della nave o della terra? Entrambe, signore. Le comunicazioni avranno problemi. Speriamo non eccessivi. Supereremo anche questa. Scatene l'inferno, capitano. Venga con lei, signore. Sei a qualcuno, 700 metri. 900 dovrebbe essere super soli. Sì, ma solo se spinge al massimo. Titano? Sto preparando i marine per la missione su Titano. Tutti pronti tra cinque minuti. Sergente? Ricevuto. Io vi lascio. Ho ancora delle armi da sistemare per lei. Grazie. Mai stato su Titano? Sì. Missione? No. Famiglia. Mio padre era un operaio. Ha lavorato sugli oleodotti per anni. Ha smesso prima che arrivasse le sediate. Facciamogliela pagare. Ci puoi scommettere. Aspettavo quest'occasione. Qual è il piano d'azione? Operazione congiunta. Io o lei? Ok? Affermati. Ricognizione. Piccola squadra. L'area è in mano nemica. Sì. Il Sedef non ha chiesto il permesso per piantare le tende laggiù. Quindi non servirà neppure a noi. I miei Jekyll sono già pronti. Lei faccia come al Gateway. E tutto andrà per il meglio. Sarà un onore, Sergente. L'onore non conta un cazzo di niente, Capitano Reyes. La missione viene prima di tutto. Ricevuto. Sono certo che il Sergente sappia che la parola onore è nel credo della Marina. Ecco cosa non mi convinceva di voi, figli di puttana. Con tutte quelle uniformi bianche e sottomarine. Sottomarine? Sì. Solo la Marina costruisce navi che affondano. Prepariamoci. Ma certo. Ah, Capitano. Sì. Portiamo Ethan con noi. Lo voglio in squadra. Gli farà piacere. Ha un enorme rispetto per i Marina. Beh, direi che fa bene. Ethan, preparati. Salirai su Raven 2. Negativo. Non succederà più. Cercavo proprio voi. Come andiamo, Gibson? Raven 2 è pronto. Occhio, l'attrito subsonico dell'atmosfera di Titano non schede. Che ci sarai, comandi? Bugs. Lui vi porterà giù, ma non sarà una gita di piacere. Sopre il mal d'aria, Sergente? Mai. Beh, mai direi mai. Il trasporto è di qua. Informazione, tutti ai propri posti! Ti avverto, Kashima. Si ballerà parecchio. Nessun problema, Sergente. Ti autorizzo a vomitare il brazzo. Ho riservato un bel punto, signore. A sinistra, numero uno. Hai sbagliato volo, Lattina. Oi, calma, calma. Lui è con me. Chiudi la bocca, ok? Siediti, soldato. Sì. Sì, sì, sì. Siamo in codice uno, Capitano. Possiamo andare, Bugs. Bene. Pronti a scendere. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ci siamo. Tenetevi. Ora si balla. Ragazzi, aprite le orecchie. Riguardo a Ethan, garantisco io per il nostro amico Metallico. È uno dei nostri. Ethan, che fa la marina quando c'è da sparare? Manda i mariner. Questo era per lei, Capitano. Sta bene, Kashima? Mi c'era un po' la testa. Dieci secondi alla meta. Respiratori. Ok. Brooks, la porta. Mi ricordo qual è l'obiettivo. Una volta la raffineria segnaleremo una zona d'atterraggio per la squadra. Chiaro, chiaro. Grazie. 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 Grazie.